Quello che è accaduto recentemente ad Cancelletto Uomini e Donne, la trasmissione televisiva di Canale 5, ha dell'incredibile e nessuno dei telespettatori si sarebbe mai immaginato una cosa del genere. Difatti il dating show di Maria De Filippi ci ha regalato, nel corso degli anni, diversi colpi di scena ma mai si era verificato un vero e proprio furto. Infatti un corteggiatore, di cui non è data sapere l'identità, ha commesso un furto proprio durante una delle tante registrazioni delle puntate, sotto gli occhi indiscreti e sempre vigili delle numerose telecamere presenti in studio, video. Il noto giornale Il Tempo ha riportato che si tratta di un corteggiatore di 26 anni dunque appartenente al trono classico, il quale avrebbe letteralmente derubato un suo rivale in amore. Successivamente, finita la puntata, si sarebbe inoltrato sull'autostrada diretto in Calabria, come se niente fosse successo. Ma la redazione di Maria De Filippi, che a occhi ovunque, lo ha contattato mentre lui viaggiava all'altezza di Frosinone, facendo presente di essersi accorta del furto e dicendogli che doveva immediatamente restituire il portafoglio rubato poco tempo prima. Ecco i dettagli riportati dal noto giornale sul furto avvenuto durante una puntata. A quel punto il corteggiatore 26enne si è discolpato dicendo che si trattava di un equivoco, in quanto lui non si era neanche accorto di avere con sé il portafoglio del rivale. Più tardi il ragazzo ha chiesto scusa alla redazione ed è uscito dall'autostrada in direzione della questura per consegnare l'oggetto rubato. Sicuramente il giovane non ha fatto una bella figura con la redazione e le sue scuse non sono riuscite a convincere nemmeno le forze dell'ordine. Di fatti gli investigatori non hanno creduto alla sua storia, per questo hanno approfondito il caso ed hanno deciso di denunciare il ragazzo per furto. Sul web si è diffusa la notizia poche ore fa, video virgola e subito è scattata l'indignazione del pubblico affezionato al programma, che non è mai stato accostato a fatti del genere. I numerosi fan si domandano come possa essere successo in puntate e che nessuno si sia accorto di nulla al momento del fattaccio. Ovviamente nessuna dichiarazione è ancora arrivata dai piani alti, dato che le persone che lavorano al programma hanno preferito non pronunciarsi sull'argomento, probabilmente fiduciosi del fatto che la giustizia farà il suo corso. Cancelletto Uomini e Donne News Cancelletto Gossip